L'altezza di questo sono circa 10 metri, i lantanali sono tutti dell'inizio secolo e sono tutti all'inizio, esteri, interni, giustizia, sono posizionati qua, ma ne sono 7. Grazie. Scusate, ho iniziato a lavorare. Mi auguro, mi auguro. A me, le congratulazioni. Lei mi mi chino. No, ma il fatto che è un governo. Travo on. Grazie a te. 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 Grazie a te.